Mi chiamo Ariane, Ariane Schurman, è già il mio nome, dici che io non sono italiana, sono tedesca, ma a 18 anni sono venuta in Italia e questo ormai 30 anni fa. Io dico molto spesso che probabilmente sono qua perché amo l'Italia un po' di più, la maggior parte degli italiani. Venendo in Italia ho dovuto fare anche i miei percorsi ovviamente e oggi posso dire proprio con integrazione che vivo la vita dei miei sogni. Oggi posso anche dire che sono autrice, ho scritto sei libri, operatrice olistica, c'è un mucchio di certificazione al muro quando li voglio guardare, ho fatto un percorso e c'è qualcuno di voi qua con la Journey che forse conoscete, che è un metodo di autoliberazione fatto da Brenton Bayes che ho presentato per dieci anni in Italia, sempre con questo grande desiderio di dire grazie a questo paese, di contribuire in qualche modo al benessere che ho trovato dentro di me. Ok? E non era sempre così, no, non era assolutamente sempre così. E a volte mi vergogno di dirvi che ho fatto spinto da qualcosa, da qualcosa che mi mancava, che non potevo mettere in parole. Spinto di questo qualcosa ho fatto 175 diversi seminari e percorsi. Eppure, eppure, sempre alla ricerca di migliorarmi, di trovare in qualche modo questo pezzo mancante, questo qualcosa che non c'era, qualcosa che mi creavo un vuoto dentro, alla ricerca sia della felicità che della soddisfazione sia professionale, sia… ok? Ok? Eppure andavo e per un attimo in qualche percorso sembrava che avevo trovato un pezzo e tutto brillava e poi di nuovo, buon, niente. Per me è stata così che addirittura sono dovuta arrivare a essere fermata fisicamente, perché questo continuo a correre, migliorarmi, cercare, potreste a sedermi con il maestro spirituale, andare a fare i percorsi di crescita personale con i guru del momento, no? Quelli più famosi, spendere tutte le energie in viaggi, tutto veramente, tutto attorno a questo bellissimo pianeta. Mi ha portato a un certo punto a qualcosa che si chiama burnout, ok? Che è una parola molto carina, nuova, moderna, per dire esaurimento nervoso. Ok? Già. Finito, finita la batteria. E per sei lunghi mesi non potevo camminare, perché il sistema nervoso mi aveva proprio obbligata di stare ferma, e poi non potevo digerire, andato da cinque dottori, ho fatto tutta la terapia, io vedi che il mio metodo ho applicato su di me, eppure niente sembrava di funzionare. E ecco perché oggi sono qua, perché c'erano delle donne attorno di me, che mi hanno praticamente accompagnata a un ritiro di solo quattro giorni, dove c'erano solo donne presenti. Adesso, io avevo un sacco di giudizio in confronto al solo donne. Non so se qualcuna di voi, forse tu, che dici, solo donne. Io non mi fidavo più delle donne, ok? Avevo anche fatto, in questa incredibile ricerca del pezzo mancante, avevo sempre usato l'energia maschile, ok? Ero entrata nell'energia del fare, di avere un obiettivo, di andare dritto, di avere successo, di fare tutto in modo logico. C'era un momento nella mia vita, che ero ancora prima, 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 ero contadina di un'azienda biodinamica, dove potevo guidare il trattore più veloce e mungere le mucche più veloce degli uomini, perché ero in competizione con loro. Ok? Questo vedo che succede ad alcune donne. Per me era semplicemente per poter sentirmi al sicuro in questo mondo. Allora dovevo essere il superman woman, ok? La donna uomo super. E tutto questo mi aveva portato a sto burn out. Allora andare a un posto dove c'erano solo donne, non era la mia prima scelta assolutamente. Ero piuttosto ancora questo, no dai, andiamo da qualche guru, qualche guaritore, qualcuno, no? Questa figura per me è grande, del Dio Padre, in un certo senso, che potesse aiutarmi. Però mi hanno proprio accompagnata. Ok, in quei quattro giorni per me è successo il miracolo, che sono tornata a casa, completamente, totalmente, perché per me era il pezzo mancante di trovare lei, l'energia femminile che vive ogni donna, e che non tanto per caso, ma per cinquemila anni o più di repressione nella nostra storia, avevo totalmente disconnesso. Ok? E dopo questo ritiro che è stato sette anni fa, è la prima volta in mia vita che potevo dire la verità a me stessa e poi agli altri. E lì è stato proprio il punto di svolta nella mia vita. Perché ve lo racconto tutto questo? Perché secondo me il problema che abbiamo tutte insieme in questo mondo, libero, perché è libero, se guardiamo, veramente abbiamo tutte le possibilità ora, no? È già libero. Noi possiamo prendere qualunque professione, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Questo ci hanno pensato le donne prima di noi. Quanti di voi sanno, per esempio, che se facciamo la conta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, adesso è a caso che io ho indicato come numero 4, ok? Solo per darvi un'idea, che ogni quarta donna, in Europa e America, in quello che chiamiamo il mondo occidentale, giusto? L'orientale è l'altro, ok? Occidentale, ogni quarta donna, la statistica, sta prendendo i psicofarmaci, in questo momento, ok? Perché avete sentito che il 25% di tutte le donne sul mondo in questo momento vengono violentate, ok? Ok, sappiamo, ci sono dei paesi dove non c'è la libertà e ovviamente noi come donne collettivamente lo sentiamo. Sapete che il 40% delle donne in questo momento dipendono economicamente di un uomo? e che c'è il 35% di tutte le donne che in questo momento sono madri single e che devono tirare su le loro figlie o figli da sole, perché ogni due minuti e mezzo c'è una separazione che sta accadendo. Quindi c'è una condizione del femminile in generale che è abbastanza triste. Mi sono chiesta dopo questa esperienza che ho fatto io, perché dopo sono proprio tornata in salute, in benessere continuo, in accesso anche al mio potere femminile e non dovevo più fare le cose tutte dritte, ma potevo farle nelle curve, fidarmi di come siamo disegnati nelle curve, ok? Un po' laterale, perché prima non avevo il coraggio. Il problema è che siamo disconnessi, non conosciamo nemmeno più che cos'è veramente donna, almeno la maggior parte di noi. Alcuna di voi qua sì, lo vedo. E molte invece no. E perché questo? Perché la nostra mamma non lo sapeva più e non poteva insegnarci. La nostra nonna non lo sapeva più e non poteva insegnarci. Allora sappiamo che il problema è la disconnessione e chi è che veramente ci sta tenendo in questa prigione disconnessa. Siamo noi? Noi le peggiori? in inglese si dice keeper of the prison door, quella che sta alla porta della prigione, ok? Perché veramente potremmo uscire, potremmo permettere quelle sensazioni, potremmo permettere l'intuizione, potremmo seguirla, però siamo noi lì che non ci fidiamo di questo potere e poi ci fa di solito anche paura. Allora, è nato questo libro e inizia con la frase che voglio anche condividere con voi adesso, perché secondo me è quello che è la causa di questo libro, ho la ragione. Finalmente è arrivato il tempo per le donne di abbracciare il proprio potere. 5.000 anni o più, adesso è arrivato. Se sei una donna sappi che questo non è il momento di trattenerti, forza è il tuo tempo. E l'ha scritto Patricia Abudin in un suo libro, ok? E quello che sperimentiamo più o meno, c'è una specie di risveglio del femminile, perché questa disconnessione generale a che cosa porta? Porta a uno stato tremendo nel quale si trova adesso il nostro pianeta, ok? Perché mancano le energie femminili, mancano nei corpi di donne, mancano nella guida, ovunque guardiamo, se ci sono i donna al top, di solito vivono nella loro energia maschile. E c'erano tutte quelle donne prima di noi che hanno proprio battagliato per avere i diritti dell'eguaglianza, ok? E cosa è successo? Che siamo diventate uguali. Ed è un problema. Ecco perché. Bisogna parlare un po' con questa noi che sta lì alla porta della prigione, sta lì per paura, per paura del potere, per paura di permettere. Ma non è per caso, perché non sono così tanti anni fa che le donne per questo potere sono state bruciate, ammazzate, emarginate, ok? Quindi è chiaro che nelle nostre cellule c'è questo timore. Quello che ho voluto scrivere in questo libro è la via fuori dalla prigione. Che io, prima di voi, sette anni fa, ho sperimentato e poi ci ho messo sette anni, no, sei veramente, di trovare il coraggio di metterlo in un libro. Perché sono passata da tutta questa guardiana della soglia, ok? Che non mi permetteva. Sette anni fa ho fatto questa esperienza. Poi piano piano, molto timidamente, ho iniziato a dare questi ritiri chiamati iniziazione alla donna divina. E li faccio insieme. Veramente senza mia figlia Ninia non avrei mai preso il coraggio. Perché c'è una delle relazioni in questo momento che è veramente difficoltosa. Ci sono molte relazioni che sono difficoltose. Però quello fra madre e figlia è una che è non solo difficoltosa ma anche veramente non guardata, ok? E molto spesso dentro i ruoli, non da donna a donna, ma proprio da madre a figlia, funziona male. Quindi Ninia e io abbiamo avuto la fortuna di andare oltre e ci siamo incontrate come donne in lei. Insieme abbiamo sviluppato questo lavoro. E poi c'era la chiamata di condividerlo perché ci ha fatto troppo bene. Dopo è nato questo libro che ho scritto solo l'anno scorso. E ho scritto qui e volevo leggervi questo pezzo. Perché questo libro? È semplicemente una nostra diretta esperienza. E posso sempre solo condividere quello che è la mia diretta esperienza, quello che ho. Se no venderei fumo, ok? E quindi la mia diretta esperienza è quella insieme a molte altre donne e che è il tempo di risorgere. È adesso. Come donne. In lei. In questo che chiamo lei. C'è un intero capitolo che cos'è lei qua. Se qualcuno vuoi interessa di leggerlo. Allora, per oltre 5.000 anni abbiamo vissuto in un mondo dominato dagli uomini e dall'energia maschile. Non è né un bene né un male. È semplicemente un fatto. Ma c'è qualche problema. Molte donne faticano a trovare uno spazio nel mondo. Alcune di loro diventano forti e mascoline, esaurendosi. Altri gettano la spugna. Altri ancora diventano vittime silenziose. E vivono nell'insoddisfazione fingendo che vada tutto bene. Con il passare del tempo dimenticano chi sono veramente. Continuano a lottare per trovare un po' di spazio. Cercano di essere all'altezza dei modelli imposti della società. E ricoprono più roli contemporaneamente. Donne in carriera e allo stesso tempo in famiglia. Madri single o mamme di famiglie allargate. Sostenitrici di nobili cause. O a caccia di una relazione romantica e affassionata. Spirituali o in cerca di una realizzazione. Altre donne hanno rinunciato del tutto a cercare il proprio spazio. Come mai? Perché essere ciò che questo mondo chiede loro di essere è un compito impossibile. Super mamme. Super amanti. Super modelle. Super gentili. Super sexy. Super di successo. Super in ogni cosa. E alla fine questa lotta per essere tutto, tranne se stesse, ne ha attenuato la luce interiore fino quasi a spegnela. Nelle città vedo molte donne con la luce spenta. Infatti io ho il privilegio di vivere in natura, ma quando viaggio nelle città mi fa male il cuore molte volte, quello che vedo. Mi fa male il cuore perché anche io sono stata una di loro con la luce spenta. una volta è arrivata davvero l'ora di cambiare e c'è una bella notizia, questa ora e adesso. Viaggio molto a offrire questo ritiro, è molto richiesto e qui stiamo timidamente iniziando, perché è qualcosa che nella mia diretta esperienza è molto nuova, da donne per donne, con donne, per solo donne, che si prendono spazi per solo sé, lasciano la famiglia, lasciano queste vite totalmente piene e si prendono 4-5 giorni per sé per passare da un'iniziazione che avrebbero dovuto avere all'età della pubertà. Cosa vuol dire l'iniziazione? C'è qualcosa di magico che succede quando solo donne si incontrano, qualcosa come se ricordiamo qualche magia nelle nostre cellule. All'inizio non avevo parole, parole per esprimere la potenza di questo lavoro e quindi quando ho iniziato a scrivere il libro ho trovato 88.000 parole per descrivere qualcosa che succede e per metterlo in sette passi che possono arrivare alla nostra mente dolce femminile per penetrare e ancora non sono soddisfatta che veramente ho trovato le parole giuste per descrivere questa iniziazione. Però ho voluto mettere tutto in un libro in modo che anche tutte le donne che non verrebbero mai al ritiro a casa hanno i sette passi molto chiari, possono assaggiarli, possono farli da solo e condividere anche solo con un'amica. E la verità è che è veramente molto semplice. Allora, passo numero uno, la verità. Uno strumento potente, l'avete sentito sicuramente tutte, la verità mi renderà libera. Adesso, dire la verità anche se fa male. Dila a te stessa, dila ad alta voce, dila agli altri al mondo, vivila, poi volerai. Il dolore, di questa parte la verità che magari è scomoda, durerà solo un istante. Vivere nella mezzogna potrebbe tenerti prigioniera per moltissimo tempo. Che cosa intendo con verità e ti rendere libera? Almeno per me era così, che ero condizionata a dire mezza verità, tre quarti, un quarto, per essere sicura di non ferire, per essere sicura che andava comunque bene in quell'ambiente, per essere sicura che nessuno mi faceva male. Quindi questo è un passo di incredibile potenza, è semplice, è naturale, è sempre qui. Ogni donna lo sente dentro, a volte mette la coperta sopra perché non vuole sentire. Per esempio, dico a qualcun altro ti amo. Lo so se è vero o no qua. E questa verità di rientrare a dirla prima di tutto a me, non è detto che devi solo dirla a tutti quanti, ma di dirla prima a me e poi scriverla e poi dimmela a me ad alta voce e poi iniziare a dirlo alle persone con cui mi fido. Quello vi cambierà la vita, vi farà disegnare la vita dei vostri sogni. E il passo numero due è qualcosa che personalmente per me sono la più appassionata, perché chi ha già sentito che le donne sono emotive? Il passo numero due, sì è diventato un cliché, è diventato un cliché ed è un fondo di verità. Ma perché? Perché le donne hanno uno strumento in questo corpo che è sensibile a sentire qualunque cosa. Ok? E tutti, sia uomini che donne, sono condizionati da quando sono nati in questi corpi nella nostra società per riprimere emozioni, cioè sensazioni. Ok? E le donne che hanno più, sentono di più, hanno un corpo emotivo più grande. E quindi quando si preme il bottone e l'emozione viene su, sono emotive. E succede più volte. E quindi non vengono molto spesso condizionate perché al meeting, alle conferenze, c'è l'emozione qua e la voce qua, o vengono le lacrime, ok? Perché c'è un grande corpo emotivo. E il passo numero due è trasformare l'emotività in pura intuizione, alla quale mi posso fidare di nuovo. Ok? E guardo, sì, posso leggervi un piccolo pezzo di qua? Perché qualcosa che per me non era mai chiaro e che poi ho appreso, era la differenza fra sentimenti, sensazioni ed emozioni. Qual è la differenza fra sensazioni, sentimenti ed emozioni? Le sensazioni sono le naturali percezioni del corpo e la percezione è lo straordinario sistema naturale innato che ci consente di percepire le condizioni di un ambiente e di sopravvivere nel mondo fisico. Per esempio, caldo e freddo, pericoloso e sicuro, eccetera, sono le sensazioni immediate che riceviamo dal mondo esterno. Le sensazioni sono illimitate alla percezione del solo mondo fisico. Una volta consentita, aperta e affinata, la percezione diventa quella che definiamo sesto senso, ovvero il sentire e percepire gli impulsi e le comunicazioni provenienti dal mondo non materiale. I sentimenti sono molto simili alle sensazioni, rappresentano ciò che elaboriamo dalle sensazioni indotte dall'ambiente. Per esempio, se avvertiamo il calore di nostra madre, possiamo sentire nel cuore felicità, calma, amore e armonia. Sensazioni e sentimenti sono vitali, gradevoli e continui. Ci guidano attraverso la vita e se rilevati ed espressi, quello di solito non è consentito per diverse sensazioni, ma se sono rilevati ed espressi, sono segnali del nostro istinto e della nostra capacità intuitiva che ci garantiscono un viaggio sicuro e felice su questo pianeta. Purtroppo ci è stato insegnato a riprimere i sentimenti e le sensazioni fin da piccoli. Quando sono ripressi non possono muoversi. Emozione è qualcosa che è fermo qui, perché sono energie. E quando sono ripressi non possono più muoversi liberamente attraverso il nostro corpo. Il risultato è che rimangano bloccati, e come ha scoperto la scienza, non io, rilasciano una sostanza biochimica nei tessuti di corpi, organi e ossa. Queste sostanze bloccano i recettori cellulari fra le cellule vicine, ciò significa che in questa zona le nostre cellule perdono il naturale flusso di comunicazioni con le altre cellule. Stiamo creando dei blocchi energetici nel nostro corpo. Vi ricordate all'inizio? Noi donne siamo disconnesse da lei. Ecco, bloccato. E proprio fisicamente. Perché in donna divina lavoriamo moltissimo sul corpo, perché lei vive in questo tempio, non da qualche parte. Ok? E entra da madre terra. Quindi questo passo, abbiamo un piccolo strumento che vi ho detto che potete portarvi a casa, si chiama la e-purificazione. Ok? Se vi interessa, può diventare uno stile di vita, non semplicemente permettere ogni volta che il corpo emotivo viene attivato, e lo sapete come viene attivato, quando il marito dice la parola di traverso a questo sguardo, o quando ieri a me è successo, quando ero al telefono con la banca, e non mi consideravano mai, è stato premuto il bottone e cosa è venuto fuori? Della rabbia. Ok? Ok. Invece adesso di sprigionare questa rabbia, e continuare a fidarmi delle mie emozioni, perché se mi fido delle emozioni, ciao, buonanotte, continuo a creare continuamente altra sofferenza nel mondo. Quando mi viene questa rabbia, mi fermo e faccio quello che chiamo la e-purificazione, l'abbiamo descritta qui dentro benissimo, in più c'è un sito web, Iniziazione alla Donna Divina, dove vi guido con degli audio file gratuiti, potete usarla per entrare dentro questa rabbia, stare ferme, e permettere al processo naturale della e-purificazione di accadere. Ok? E vedrete che a un certo punto questo corpo emotivo, è libero, è un altro pezzo liberato, dove lei, la donna che sei sempre stata, che non vuole altro che tu brilli nella tua luce, può rientrare. Passo numero tre, lo chiamiamo il salto in lei. Come si fa a saltare dentro di lei? Tu sei già lei, ma non ci credi ovviamente. Credenze, tradizioni, filtri, idee, protezioni, e cecità robotica, ovvero sia, in italiano è difficile a volte, il tuo ego ti ottenebrano la vista. Il fatto è che tu sei già lei, bisogna solo pulire il filtro, e lì è tutto descritto molto bene, non mi basta il tempo per andare in ogni dettaglio qui. Il passo numero quattro, è qualcosa che sicuramente conoscete, e avete già fatto in situazioni estreme nella vostra vita, e l'abbiamo, perché noi sapevamo bene come chiamarlo, è un sbloccarci a livello energetico, in modo così potente, che dopo entra lei del tutto. E quindi sperimentare questo, e lo chiamiamo adesso, passare attraverso l'inferno, per entrare in paradiso. E cosa intendiamo con l'inferno? quello che non vogliamo guardare mai, di noi, può essere la paura di morire per alcuni, può essere la paura di perdere i vostri figli, per alcuni altri, può essere la paura di fare un fallimento, e non sapete esattamente quale è la vostra porta. Per me, per esempio, era la porta di essere completamente vulnerabile, era il più terrore che avevo, di essere senza protezione, senza forza, e di dover sentire di essere vulnerabile. E quindi in questo cerchio di donne, è venuto su, è un lavoro energetico, insieme ci siamo attraversati, e dopo cosa c'è? Tutto per me era quel momento di svolta, la mia vita dove sono passata dalla parte maschile, a diventare, permettere le energie femminili qua, perché la verità è che per un corpo di donna, che è privo di energie femminili, si ammala. E quindi per questo motivo, quando finalmente potevano fluire, ero di nuovo sana, e molto molto semplice, tutto quello che ho da condividere con voi, è molto semplice. Niente di nuovo, è solo messo insieme, in un abbraccio incredibile. Ok? Bene, il passo numero 5 è, guarda nello specchio magico, e di quello non vi dico altro, perché è così potente, una volta che avete guardato nello specchio magico, è visto, non come concetto mentale, ma visto chi sei veramente. Ok? Possiamo leggere un milione di libri, e sapere, io sono l'infinito, io sono la luce, io sono, finché non l'hai visto, sperimentato, quindi, mancano tutti dei bei concetti. Ok? Quando hai guardato dentro questo specchio magico, è lì per te, indimenticabile. Passo numero 5, e lo creiamo insieme, e l'ho creato anche qui, e ora che lo potete fare a casa. E il passo numero 6, perché ormai lei è dentro, ho guardato e so chi sono, in un momento, non me lo dimentico più, nemmeno in faccia alle sfide. Adesso cosa faccio? Imparo passo numero 6, vivere uno stile di vita di cosa? Di celebrazione. Ovviamente, ovviamente, io mi sveglio la mattina, sono ancora qua, ok, è un altro giorno da celebrare, ok? E non è sempre, yeah, 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 cioè a me piace anche, yeah, 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 come vedete probabilmente. E semplicemente, wow, c'è la nebbia oggi, che bello, la sento sulla pelle. E quel momento, quando guardo nello specchio, e mi metto la crema, quando me la metto, e invece di fare un super meccanico, che come di solito facciamo, ok? E di, wow, che bello, guarda che faccia, è ancora qua, ok? Stile di vita, celebrazione, lo facciamo insieme. Poi, il passo numero 7, che diventa anche l'ultimo, è chiamato il segreto della connessione. Due parole su quello, come non perdere mai più il collegamento, con quello che chiamiamo lei. E anche lì, quello sperimentiamo insieme, sia nel libro, che nel ritiro. E sicuramente l'ultima cosa, che io avrei pensato, di andare a lavorare con le donne. Perché non amavo me stessa, e ovviamente non amavo le altre donne. ma quando ho iniziato a amare me stessa, io amo ogni forma, espressione femminile, e la buona notizia è, che quando amo me stessa, poi non ho più problemi, nemmeno di amare il maschile, e tutto il resto che c'è. Ok? Quindi per me questo lavoro, è così importante, è così forte e potente, perché è stato dimenticato. Una volta le donne si univano, per ricaricarsi, in solo donne. Ok? E' semplicemente stato dimenticato, dai tempi, in questo frenetico mondo, fatto da uomini. E non c'è possibilità, che noi donne, troviamo uno spazio, all'interno del mondo maschile. C'è solo la possibilità, di creare i nostri spazi femminili, ridisegnare, i nostri spazi al femminile, e poi mano in mano, col maschile, fare la differenza, nel mondo. E per chiudere, ho trovato due belle frasi, che ho messo in questo libro. Ci ho messo i colori diversi, perché la verità è, che nella parte più profonda, più nascosta della donna, tutto ciò che è possibile trovare, è una sorprendente, accecante bellezza, che è brama di essere espressa. E riguardo al lavoro donna divina, vorrei chiudere oggi, ringraziandovi tantissimo, con la frase, se non è semplice, è sospetto. Scritto da Sonia Schochet. Ok? Grazie per la vostra attenzione. Grazie. Grazie. Grazie.